Ha cominciato le riprese in giro per le Marche. Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, nato a Iesi e testimonial d'eccezione della Regione, dopo l'accordo siglato il mese scorso, che lega la sua immagine alla promozione turistica del nostro territorio fino al 2023. Per me, ha detto il mister, è un grande onore essere stato scelto come testimonial, esattamente come quando sono diventato allenatore della Nazionale, entrambe situazioni difficili nelle quali nessuno credeva. La Nazionale, in due anni, l'abbiamo riportata ai vertici, mentre le Marche hanno grandi qualità. Tutti insieme speriamo nel giro di pochi mesi possiamo uscire da questa pandemia. Milioni di persone sono pronte a venire nelle Marche. L'unica difficoltà, ha detto facendo riferimento a collegamenti infrastrutturali, è che è difficile arrivarci. Poi, alla domanda di una giornalista che gli ha chiesto quale luogo consiglierebbe, Mancini ha risposto che Porto Novo è uno dei posti più belli al mondo. Noi italiani siamo fortunati e bisognerebbe visitare prima le bellezze di casa che quelle all'estero. Sono sicuro, ha dichiarato Mancini, che insieme faremo grandi cose. Bisogna ripartire da questo, avere il coraggio, capire che abbiamo delle grandi qualità e dei posti meravigliosi. Quindi bisogna credere nelle proprie qualità che si hanno, mettere a disposizione delle persone che vengono a visitare le Marche. Quindi si riparte da questo e bisogna soprattutto credere in se stessi sempre. Speriamo che insieme al Presidente e insieme a tutti i componenti della Regione si possa lavorare per far sì che le Marche veramente tornino a risplendere. Orgoglioso ed emozionato il Governatore Francesco Acquaroli al fianco del Mister e del Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini. L'immagine e la testimonianza del CT, ha commentato il Presidente, aiuterà la Regione a diventare protagonista e ad avere una maggiore consapevolezza sulle nostre bellezze e sul grande patrimonio su cui possiamo puntare. Potremo far riscoprire a tanti la passione per una Regione straordinaria e ricca che può affermare una sua capacità turistica e commerciale a livello globale. Potremo diventare riconoscibili nel mercato nazionale e internazionale. Tutti insieme dobbiamo lavorare in squadra per rinunciare il nostro territorio e superare questo momento complicato e difficile. Ma sono sicuro che abbiamo tutti gli ingredienti per farcelo e fare bene. Gli spot andranno in onda sulle reti televisive e sui social. L'obiettivo, ha spiegato il direttore creativo Gianluca Ignazzi, è quello di costruire un vero piano editoriale. Abbiamo già percorso 650 chilometri e presto daremo alla Regione tutto il materiale necessario per una comunicazione costante, invitando alla destagionalizzazione. Siamo pronti, ha poi concluso Acquaroli, per una nuova stagione di rinascita post-Covid e per la riscoperta delle nostre bellezze.